Allora siamo con Tommaso Cancellotti, un commento sulla partita? Ah, è stata una partita molto bella, penso che ci sono state occasioni da entrambe le parti, dopo il risultato grandissimo che abbiamo ottenuto in campionato ci teniamo a far bene nella Supercoppa, oggi l'abbiamo dimostrato e siamo carichi per andare a fare il risultato a terra. Qual è stato il momento più bello di tutta la stagione a parte l'ultima partita? Ma guarda, ripensandoci adesso non trovo momenti migliori e peggiori, è stato tutto davvero bellissimo, dai momenti dove eravamo più in forma ai momenti dove abbiamo dovuto dare delle risposte importanti, è stato un gruppo veramente sano, fantastico che ci ha dato veramente... Andiamo! Mi ha lasciato tanto e quindi ti dico, è un anno veramente bellissimo in tutto e per tutto. Ora tra i dieci giorni il derby, sai quanto la tifoseria ma tutti vengono a questa partita? Assolutamente, sappiamo l'importanza della partita, sappiamo che bisognerà andare a battagliare e questa è un'ulteriore finale, un'ulteriore soddisfazione che vogliamo dare alla società e ai nostri tifosi. A chi dedichi la vittoria del campionato? Dedico questa vittoria alla mia compagna Marinella, mio figlio Leonardo che mi sono stato vicino in ogni momento anche in quelli dove ho sofferto un po', dove ci sono stati errori, cose giuste, loro sono stati sempre al mio fianco e mi hanno sempre supportato e sopportato e dedico anche la mia famiglia, mia madre e mie due sorelle. Forza Perugia!